Musica Pausa estiva per il Consiglio regionale della Toscana. L'aula di Palazzo del Pegaso tornerà a riunirsi a settembre nel corso delle ultime sedute diversi gli argomenti che hanno alimentato il dibattito come il tema dei lavori sulla Firenze e Pisa Livorno. Stefano Baccelli, assessore alla mobilità, è intervenuto in aula facendo il bilancio di quanto realizzato negli ultimi anni e presentando il progetto della nuova società in house per la gestione dell'arteria. Dopo il dibattito è stato approvato l'ordine del giorno presentato dal PD che chiede interventi definitivi. Ciò che conterà sarà il livello e non solo la quantità ma anche la qualità degli investimenti. Come abbiamo visto di recente nel balletto tra le istituzioni è successo che un finanziamento importante che serviva a risolvere i problemi più urgenti della FIPILI sia di fatto entrato definitivamente nelle casse della città metropolitana soltanto con l'atto dirigenziale ultimo del 13 luglio, pensate. E l'intervento in via d'urgenza non era stato consentito in un primo momento. Quindi è chiaro che gli enti locali erano norme stringenti. Forse la società nuova potrà essere una risposta dal punto di vista burocratico. Quello che è certo è che deve rimanere alta l'attenzione su un futuro di medio-lungo periodo per quella strada non soltanto volto a rappezzare di volta in volta e intervenire sulle urgenze. D'accordo con la società di gestione in house? Credo che possa essere la scelta giusta ma dipenderà di che cosa potrà disporre questa nuova società e su cosa potrà effettivamente contare per poter mettere mano a interventi definitivi sulla FIPILI. Da tempo mancano interventi adeguati, dicono le opposizioni. Io ho scritto mesi fa IRPET, che è l'istituto che studia i flussi della Toscana e IRPET ci comunica che la FIPILI, così com'è, costa 100.000 euro al giorno ai toscani in termini di minore chance, minore opportunità e in termini di maggiori costi sociali. Significa che costa su 5 giorni una settimana 500.000 euro la settimana, 2 milioni di euro il mese, oltre 20 milioni di euro l'anno. Questi sono i costi della FIPILI. Continuare a avere una delle arterie fondamentali della Toscana in queste condizioni significa dare meno chance, più costi, più pesantezza a tutto il sistema toscano, sia delle imprese, sia dei lavoratori. Una sostanziale difficoltà nella sovrapposizione di competenze tra regione e città metropolitana che non agevola gli interventi, che sono spesso fatti in sommorgenza, spesso anche disponendo di risorse importanti. Il caso della Frana è stato emblematico, 4 milioni di euro per risolvere un problema che di fatto però si scontra con la fragilità di un territorio. Quindi di fatto è un grande punto interrogativo quello che sarà il destino di quest'opera. Non sappiamo se ci saranno adeguamenti, non sappiamo quando ci sarà la prossima emergenza. Quindi è una situazione di incertezza che però invece l'unica cosa certa è quella del traffico, è quella del calvario a cui purtroppo sono sottoposti quotidianamente gli automobilisti. È un'arteria che meriterebbe diciamo di essere appunto magari collocata tra le opere strategiche di livello nazionale che avrebbe in questo caso consentito magari anche l'utilizzo dei fondi europei. D'accordo con la nuova società di gestione? Gianni ha lanciato l'idea di Toscana, strada e SPA. Noi non siamo pregiudizialmente contrari, però che ci dica che cosa vuol fare perché finora è un fumetto senza nessun tipo di riscontro. Allora noi siamo perplessi su questo tipo di strumento più che altro perché ancora non sappiamo tecnicamente se ci sono i presupposti per poterla fare. E la grande incognita del finanziamento della società perché comunque sia una società deve essere capitalizzata. Capitalizzarla non significa conferire solo l'infrastruttura, significa anche mettere liquidità. E la liquidità da qualche parte deve essere presa, quindi su questo aspetto ci vuole assolutamente chiarezza. Io dico una cosa, sulla questione toscana strade si è già espressa con forte perplessità anche la Corte dei Conti. Quindi non sappiamo quanto sia una strada effettivamente percorribile. Forse invece portare l'attenzione al MIT, quindi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in modo molto più convinto, appunto facendo un'arteria di carattere nazionale strategico, forse potrebbe essere la soluzione. Pendolari e aziende sono fortemente penalizzati. Bisogna evitare ogni ipotesi di pedaggio che graverebbe soprattutto su uno dei più importanti ristretti industriali della Toscana, quello di Santa Croce sull'Arno. Ecco perché diciamo no al pedaggio, sulla società unica noi siamo disponibili a parlarne, a patto che non costi un euro in più per le tasche dei cittadini, che non vi siano i consigli di amministrazione dove ci sono le poltrone. E poi la domanda è perché fare una società in house. Oggi la provincia la gestisce in maniera diretta attraverso un bando, non si capisce perché non lo possa fare la regione toscana. Per noi quello che è evidente è che ciò che manca alla FIPI-LIC, a cui è sempre mancato, è una progettazione di medio e lungo respiro e soprattutto soldi, finanziamenti, appurato che dal PNRR non si possono prendere e che i fondi della regione toscana non bastano. L'unica cosa che si può fare è guardare al nuovo settennato dei fondi europei strutturali e al governo nazionale. Sicuramente creare più poltrone con un nuovo CDA non aumenterà i soldi che già ci sono, piuttosto moltiplicherà le poltrone. Nuove disposizioni in materia di nomine e incarichi regionali nell'ottica di garantire un'effettiva parità di genere. Ad illustrare cosa cambia il Presidente dell'Aula, Antonio Mazzeo. Era un impegno che ho preso non appena eletto Presidente del Consiglio regionale. Lo dico ai cittadini che ci seguono. Oggi c'era una norma, quella sulle nomine, che diceva che si dovevano presentare due nomi, un nome di uomo e un nome di donna, per qualunque nomina. Ma poi alla fine il Consiglio regionale poteva scegliere di nominare persone tutte dello stesso sesso. Con questa modifica che ho condiviso anche con un emendamento che ho presentato con la Commissione Pari Opportunità, io dico che ci deve essere parità di genere, non parità di presentazione delle domande, ma parità di genere. Questo vuol dire che se è un numero pari di nomine, allora saranno 50 e 50. Se invece è un numero dispari, ci sarà la differenza solo di un genere. Sono tre, due uomini e una donna o due donne e un uomo. Alla fine dell'anno faremo una valutazione e nel caso in cui non ci sia ancora parità complessiva, lo faremo nell'anno successivo. Questa secondo me è una scelta importante che va nella direzione giusta. Noi non possiamo guardare il mondo solo con gli occhi di un genere. Credo che serva la presenza di tutti e buona politica è davvero quella di dare risposta in questa direzione. Mi dispiace, ci sia stato anche in questo caso un po' di polemiche. Il provvedimento passa a maggioranza. Le opposizioni di centro-destra si astengono. A presentare la proposta erano stati consiglieri fratoni del PD e Scaramelli d'Italia Viva. Intanto la legge raccoglie le mie proposte che sono forti perché finalmente la parità di genere non diventa soltanto un principio né uno slogan, diventa fattiva. Serve attuarla concretamente, un impegno concreto del Consiglio regionale, degli incarichi nelle nomine sia tecniche che politiche, in tutti i consigli, nelle consulenze, una presenza paritetica di donne e di uomini che consente di far emergere merito e qualità ma soprattutto un coinvolgimento attivo e fattivo della Commissione pari opportunità rispetto a un processo di informazione, di comunicazione e di divulgazione di quello che diventa fondamentalmente un principio cardine che la Regione si impegna in prima persona ad attuare ogni anno nella ripartizione degli incarichi che vengono assegnati e anche tenendo conto non soltanto elementi politici ma soprattutto elementi qualitativi e tecnici. Una governance diffusa per valorizzare e promuovere il patrimonio identitario della Toscana rappresentato dalle numerose rievocazioni storiche è il cuore della proposta di legge approvata dal Consiglio che prevede anche lo stanziamento di 500 mila euro l'anno fino al 2023. Ad illustrare il lavoro svolto prima in Commissione e poi in Aula la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi. È una legge molto importante che prevede non soltanto, rende operativo lo stanziamento di 500 mila euro all'anno che era stato previsto nel bilancio ma prevede grandi novità dal punto di vista delle modalità di erogazione. Le associazioni e le istituzioni che realizzano rievocazioni storiche potranno coprogettare con gli enti locali gli eventi, le cerimonie, le iniziative secondo le modalità previste dalla legge sul terzo settore. È la prima applicazione della riforma del terzo settore che abbiamo visto nelle scorsi mesi essere approvata e che adesso davvero trova realizzazione. È una legge la nostra che ha cercato di andare incontro alle esigenze delle associazioni che realizzano queste importanti rievocazioni così sentite dalla cittadinanza e che anche ha cercato di sollecitarne e sottolinearne il valore culturale. La novità della collaborazione con le scuole sia nella fase di progettazione sia dal punto di vista poi della fruizione degli eventi è uno di questi elementi. E la istituzione di un osservatorio scientifico che sorvegli sulle iniziative, sul calendario che dia un contributo di consulenza è l'altra novità importante. Ecco, una governance che avrà il suo centro nella regione, consiglio e giunta e nella collaborazione soprattutto con le associazioni presenti in tutto il territorio oltre che con una componente di sindaci che rappresentano le istituzioni e gli enti locali che poi sono i primi protagonisti insieme alle associazioni di questo mondo affascinante, complesso e molto molto vicino ai sentimenti dei toscani e delle toscane che è quello delle rievocazioni storiche. La proposta di legge passa a maggioranza 24 voti a favore e 4 astenuti respinti gli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia che chiedeva un maggior coinvolgimento dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia. Una buona legge sciupata dalla commissione in regione perché anziché mettere come rappresentanti dell'organo di governo della legge che stanzia circa 500 mila euro l'anno per i prossimi tre anni i sindaci dei comuni capoluoghi che era una cosa diciamo oggettiva e neutra invece si demanda all'Anci di scegliere quali saranno i sindaci e quali saranno i comuni che governeranno questo processo e questo procedimento. È un modo arbitrario di intendere la politica e soprattutto speriamo che Anci sia in questo caso imparziale e non voglia invece fare una congrega di partito come molto spesso abbiamo visto fare ad Anci. giornalismo e letteratura ma anche satira con spazio per approfondire e dialogare con il pubblico questi gli elementi caratterizzanti del festival letterario Trame d'estate in programma dal 19 al 22 agosto a Palazzo Medicio a Seravezza La manifestazione è stata presentata in mattinata in consiglio regionale presenti come ogni anno grandi firme del giornalismo e della critica Per questa nuova edizione abbiamo deciso di puntare molto sulla qualità invitando grandi autori e grandi giornalisti vi faccio alcuni nomi Luca Bottura, Radio Capital L'Espresso piuttosto che Rita Narmeni che tutti conosciamo per il suo ruolo alla 7 con Giuliano Ferrara ai tempi di 8 e mezzo piuttosto che altri testate con i quali sta continuando a collaborare molta attenzione anche all'ambito proprio della letteratura con due bestelleristi di punta come Gianpaolo Simi e soprattutto Antonio Manzini con la sua ultima opera attualmente in classifica è una manifestazione che è cresciuta negli anni siamo arrivati alla nona edizione e da una manifestazione spot da pochi appuntamenti è diventata ormai un must dell'estate di Seravezza e della Versilia come amministrazione comunale abbiamo voluto negli anni investire molto nell'ambito della cultura della rete, delle relazioni culturali e Trame è uno di quegli appuntamenti e di quelle organizzazioni che lo dimostrano non ultimo mi piace ricordare appunto che a Seravezza è proprio sede di uno dei comitati nazionali finanziati dal Ministero della Cultura nel 2019 nell'ambito della valorizzazione culturale questo festival Trame d'estate si inserisce a pieno titolo tra i più importanti della provincia di Lucca e della regione toscana è un'opportunità anche di promozione turistica in un luogo straordinario che è il comune di Seravezza che è cerniera tra le Alpi Apuane e il mare della Versilia noi lo promuoviamo con assoluta convinzione proprio perché la cultura è anche sviluppo turistico ed economico del territorio Grazie a tutti